Villetta d'angolo, quindi libera su tre lati, con piano rialzato, sala, cucina, bagno, due balconi, entrambi accessibili anche dal giardino. Primo piano con tre camere da letto, bagno, mansarda dove è possibile fare un'ulteriore camera da letto con bagno e taverna al piano interrato con bagno e garage. Beh, che cosa stai aspettando? Corri e vieni a vederla, non perdere questa occasione. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questa villetta in vendita. Siamo a Mezzeno, a 5 km dalla piazza di Faenza e a 2 km dal casello dell'autostrada e qui si trova questa villetta d'angolo su questa strada chiusa, distribuita su quattro piani, abitabili diciamo quotidianamente sono il piano rialzato con la zona giorno bella ampia e il piano primo con le tre camere da letto. Ma oltre a questi spazi abbiamo la taverna al piano interrato con il bagno e cucina e garage e mansarda sempre con il bagno che può essere utilissima come o quarta camera oppure come studio, zona laboratorio o hobby, palestra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita.